La Chiesa riconosce nella vita di Don Lorenzo Milani un modo esemplare di servire Evangelo, i poveri e la Chiesa stessa. Lo ha sottolineato Papa Francesco nel giardino della Canonica di Barbiana, dopo aver pregato in privato sulla tomba del sacerdote fiorentino scomparso nel 1967, nella seconda tappa del pellegrinaggio che in mattinata l'aveva portato sulla tomba di Don Primo Mazzolari. In questa piccola frazione, sulle colline del Mugello, accompagnato dall'arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Bettori, il Papa ha ricordato che il suo gesto non cancella le amarezze che hanno accompagnato la vita di Don Milani, ma è una risposta alla richiesta che questo prete, trasparente e duro come un diamante, fece inutilmente più volte al suo Vescovo, perché fosse riconosciuta la sua fedeltà al Vangelo e la rettitudine della sua azione pastorale. Parlando agli ex allievi delle scuole popolari di Don Milani a Calenzano e a Barbiana, ai ragazzi in situazioni di disagio sociale, ai loro educatori e ad alcuni sacerdoti fiorentini, Francesco ha ricordato che Don Lorenzo ha difeso e promosso la dignità dei fratelli. La sua passione educativa, la sua scuola, erano per lui il modo concreto per svolgere la sua missione di prete, dandole un fondamento solido e capace di innalzare fino al cielo. Ridare ai poveri la parola, perché senza la parola non c'è dignità e quindi neanche libertà e giustizia, questo insegna Don Milani. Ed è la parola che potrà aprire la strada alla piena cittadinanza nella società, mediante il lavoro e alla piena appartenenza alla Chiesa con una fede consapevole. Questo vale anche oggi, ha sottolineato Papa Francesco, chiedendo agli educatori dei ragazzi in situazioni di disagio di stimolare in loro la crescita di una coscienza libera, capace di fuggire ad ogni egoismo per servire il bene comune. Ai sacerdoti, infine, il Pontefice ha ricordato che tutto in Don Milani nasce dal suo essere prete e dalla sua fede totalizzante, dal suo donarsi completamente al Signore. Fin da giovane convertito, che, scriveva il suo padre spirituale, non Raffaele Bensi, partì subito per l'assoluto. Senza questa sete di assoluto, ha concluso il Papa, si può essere dei buoni funzionari del Sacro, ma non si può essere preti, preti veri, capaci di diventare servitori di Cristo nei fratelli. Cari preti, cerchiamo di essere uomini di fede, una fede schietta non annacquata e uomini di carità pastorale verso tutti coloro che il Signore ci affida. Grazie a tutti.